Il ruolo del medico di famiglia per la vaccinazione antifluenzale è sicuramente importante. Innanzitutto il nostro rapporto con il paziente si basa su un rapporto di fiducia e sulla conoscenza della sua complessiva condizione sociale, familiare, ovviamente oltre che clinica, il che significa che il medico di famiglia è in grado di prevedere un piano di prevenzione personalizzato per quello specifico paziente. Tra le vaccinazioni sicuramente quella antifluenzale è una delle più significative. Il nostro lavoro incomincia dal momento in cui individuiamo i pazienti che sono sì le persone di oltre 65 anni, ma ci sono anche i giovani, i pazienti cronici, ci sono anche i familiari di tutti i contatti fragili che potrebbero in qualche modo determinare a loro volta, essere a loro volta un motivo di contagio per quanto riguarda l'influenza. Quindi il ruolo è quello di individuare le condizioni in cui la vaccinazione antifluenzale è indicata e quello ovviamente di informare il paziente di tutti i benefici, di tutte quelle che sono le condizioni che la determinano l'utilità e ovviamente oltre che quella di somministrare. I medici di famiglia in Italia sono oltre 46 mila e ognuno di noi ha molto spesso più di uno studio, il che significa che ci sono almeno 60 mila punti, 60 mila studi di medici, di medicina generale in grado di offrire questa vaccinazione e quindi in maniera assolutamente capillare.